Chi è che compie l'atto di scopare una persona? La donna o l'uomo? Cioè, è la donna che si fa scopare o è la donna che scopa l'uomo? Cioè, capisci? È giusto anche l'inverso. Cioè, ci hai mai pensato? No, effettivamente non ci avevo mai pensato, ma secondo me vanno bene entrambe. Io non so, secondo me questa cosa è da elaborare. Questa qua è una domanda da fare alla NASA. Cioè, i migliori calcolatori devono mettersi in moto per rispondermi a questa domanda. Vuoi chiedere a mia madre? Sì. Ok, ok, attività in viva voce, va bene? No, no, in viva voce no. Capito? È una questione di disposizione e volontà. Ah, ho capito, ok, ok, ok. Aspetta, non ti metti dubbio a me. E se sono entrambi consenzienti e sono magari entrambi in piedi, così nessuno è sopra l'altro? Senti che dubbio amletici che ti pongo.